La situazione geopolitica è in grande fermento ed è sicuramente molto complicata. Questa complicazione si traduce anche in una creazione di multilateralismi e situazioni sempre più regionali. È ovvio che la geopolitica impatta sulle imprese perché comunque le imprese vivono il loro quotidiano sui mercati e devono affrontare le situazioni sia endogene che esogene alle imprese stesse. Ed è ovvio che le imprese devono cercare con la loro flessibilità di adattarsi per trovare il modo di continuare ad essere di successo.